Oggi ti parlo di un mio nuovo acquisto, c'è il frullatore a immersione della Imetec. Questa è la scatola, mentre questo è il frullatore vero e proprio. Adesso ti parlo di tutte le caratteristiche, ma prima ti dico che lo trovi sul mio shop Amazon, di cui trovi il link sia nell'info box, quindi nella descrizione, che nel commento in primo piano. Ha una potenza di 450 volt o watt, che si voglia dire, eccolo qui. In più è fatto in acciaio, naturalmente si può svitare e questo ne facilita la pulizia. Ed ha un funzionamento ad impulsi, io l'ho pagato 28 euro, è veramente potentissimo. Io mi sono stupita per la facilità di frullamento, perché sono abituata a preparare vellutate, zuppe, minestroni e quindi, siccome il mio precedente frullatore a immersione mi si è rotto, avevo bisogno di comprarne un altro. Ed ho scelto questo. Ora ti leggo tutto quello che c'è scritto sulla confezione per capire al meglio come si presenta il prodotto. Abbiamo un gambo extra large per passati lisci ed omogenei, infatti è ideale per preparare in poco tempo deliziose zuppe, salse e frullati. Con il gambo extra large gli alimenti vengono frullati in maniera omogenea e vellutata per piatti da veri chef, come fanno vedere qui e sul canale se vuoi trovi varie ricette che ti possono ispirare. Il gambo in acciaio inox permette frullati alimenti caldi direttamente in pentola, quindi non devi spostare il composto in un altro contenitore. A me sin dal primo utilizzo mi ha stupito, perché è veramente veramente potente, costa pochissimo e te lo consiglio. Ti ricordo ancora una volta che se vuoi lo trovi nel mio shop Amazon insieme ad altri prodotti, quindi vai a dare un'occhiatina. Spero che questa mini recensione ti sia stata utile, scrivimelo nel tuo commento e noi ci vediamo presto con un nuovo video! Ciao!